Francesco Modesto, si dice che chi ben comincia è già a metà dell'opera, però vabbè c'è una stagione lunghissima, però è importante partire con il piede, giusto? È normale per tanti ragazzi comunque aggregati quest'anno con i ragazzi che già l'anno scorso hanno partecipato a questo campionato, abbiamo tanti ragazzi giovani bravi che salgono su anche molto giovani, dobbiamo cercare di lavorare, migliorarci tutti i giorni quando vengono al campo, è un gruppo che si sta conoscendo dal 17 luglio che noi stiamo lavorando, siamo arrivati alla partita facendo pure buone cose, però rivedendoci poi dopo dobbiamo migliorare gli aspetti. Perché l'allenatore non è mai soddisfatto, va sempre alla ricerca di quel dettaglio da curare? Sicuramente ci sono delle situazioni dove possiamo andare a migliorare, meglio che sono successi subito nella prima gara, così andiamo ad analizzare e poi ci lavoriamo su. Una stagione lunga quella che vi aspetta, come del resto lo era quella passata, però non siete più la novità, non siete più la squadra così che nessuno conosce, adesso vi conoscono e anche bene? Ci conoscono, ci studiano perché comunque sanno che anche avendo una giovane età, magari con un'esperienza in meno rispetto ai giocatori che stanno in questa categoria, sanno che sono bravi, quindi sono sempre più attenti, magari giocano contro l'Atalanta, hanno uno stimolo in più e quindi noi dobbiamo essere bravi a capire che tipo di partita andiamo a giocare. I ragazzi dell'anno scorso sanno già cos'è il campionato e gli altri lo devono conoscere, però già stasera ho avuto dei buoni risponsi perché vedere comunque Tornaghi entrare con quella personalità, lo stesso Vavassori e tutti gli altri, quindi mi fa ben sperare perché sono ragazzi che poi si vogliono migliorare.